Sono Raffaele Cattaneo, sono il Presidente della Commissione Cotter del Comitato delle Regioni, di cui sono stato membro anche per una parte della scorsa legislatura. Sono il Presidente del Consiglio regionale dell'Assemblea legislativa della Regione Lombardia, che è la più grande regione italiana, la regione di Milano. La Commissione Cotter è una delle commissioni più importanti del Comitato delle Regioni. È la commissione che si occupa innanzitutto delle politiche di coesione, ma insieme a queste si occupa delle questioni legate al budget dell'Unione Europea e quindi a tutti i temi finanziari. Si occupa poi dell'agenda urbana, delle politiche dei trasporti, della programmazione dell'uso dello spazio, della cooperazione trasfrontaliera. La sfida principale per la nostra Commissione naturalmente in questo mandato è il nuovo piano per gli investimenti in Europa, il piano Juncker, che riguarda i temi principali del nostro lavoro e quindi la possibilità di rimettere in moto un circuito virtuoso di crescita, di sviluppo che però sia costruito anche con il territorio e con le regioni. Noi dobbiamo ripensare le politiche di coesione. Molti dei suggerimenti che sono contenuti nella parere sul piano Juncker del Comitato delle Regioni, discusso nella nostra Commissione, sono stati poi recepiti nel confronto col Parlamento europeo nell'ultima versione del regolamento. Quindi un esempio positivo di efficacia del lavoro del Comitato delle Regioni. Potrei fare moltissimi esempi di risultati concreti delle politiche di coesione europea, dell'uso dei fondi strutturali nella mia regione, dalla valorizzazione turistica delle valli alpine, dei comuni più remoti della periferia della nostra regione, che con i fondi europei hanno potuto aumentare la loro attrattività, valorizzando le produzioni enogastronomiche locali, mettendo a posto i sentieri di accessibilità alle valli alpine, eccetera, eccetera. O i progetti infrastrutturali significativi, per esempio stiamo realizzando con il contributo dei fondi europei il collegamento ferroviario fra il Terminal 1 e il Terminal 2 dell'aeroporto di Malpensa. Un'Europa che sia solo top down, cioè che sia solo concepita in una direzione che va da Bruxelles verso i territori, che diventano solo gli attuatori delle politiche europee, è un'Europa destinata a non funzionare. L'Europa che funzionerà è l'Europa bottom up, quella in cui i territori si sentono partecipi della costruzione del disegno europeo e si sentono pienamente parte delle politiche europee. Ma per fare questo c'è ancora bisogno di un lungo percorso. Molta strada è stata fatta dal Trattato di Lisbona in poi, il ruolo delle regioni e anche il ruolo del Comitato delle regioni è cresciuto dentro l'Europa. Ma io credo che siamo ancora lontani da una vera Europa dei popoli e delle regioni, da una vera Europa sussidiaria. Senza una partecipazione più viva, più diretta dei territori, delle regioni, delle città, alla costruzione, all'implementazione delle politiche europee, queste politiche saranno sentite sempre più lontano. E io credo che questo metterà in discussione il futuro stesso del progetto europeo. Per questo le regioni e le città oggi sono così centrali, per ridare una speranza ai cittadini europei in un'Europa che possa essere sentita vicina e utile per il loro futuro. Grazie.